Un open day all'insegna della presentazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, in particolare quelli di caffetteria e latte arte base, cake design e fruit carving. Giuseppe Fiorini, campione italiano nel 2016 e coffee trainer dell'associazione, ha effettuato dimostrazioni di latte arte ed estrazioni di differenti tipologie di miscele di caffè. L'associazione collabora con le principali associazioni di categoria e si avvale del contributo dei più affermati professionisti del settore. Mangiare bene non solo, fornisce consulenza specializzata e organizza corsi di formazione rivolti ai privati, ai professionisti e alle aziende. Realizza inoltre corsi professionali per il comparto scuola riconosciuti dal MIUR.